buongiorno a tutti oggi andiamo ad anguillara a prendere un aperitivo poi abbracciato a mangiare al ristorantino con il mio amico ale lei è tirata non ve l'avevo ancora mai presentata raggiungiamo ale due curvette insieme vediamo che viene fuori dai andiamoci a divertire eccoci al luogo da appuntamento ale ancora non è arrivato dobbiamo cambiarlo questo luogo d'appuntamento perché sotto il sole fa un caldo pazzesco ma è arrivato ale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti abbiamo finalmente trovato un pezzettino per riprenderci un caldo pazzesco adesso una piccola pausa a colazione un po' da voi purdette brazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti